E benvenuti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, sono sempre con Semi Grandemark e oggi siamo di nuovo in un cosa ho comprato... yeah! Ragazzi, oggi ho non molte cose, ma un pochino di cose che non sono neanche tanto enormi o cosa. Praticamente ho preso due nuovi liquidi per la svapo, per le mie svapo, un fumetto e una cosa un po' vecchiotta, però ve la faccio vedere adesso, per dei motivi semplici. Quindi raduno un po' le cose e ve le faccio vedere. A posto, radunate, ma prima di tutto facciamo... facciamo, anzi... Prima di tutto, la sigla! Eccoci qua, boom! Allora ragazzi, rivditemi anche sotto nei commenti, come nel video di Dokkan, ditemi anche qua sotto se vi piace questa tipologia di intro, più, dico, sigla e c'è la mia sigla, ditemi cosa ne pensate qua con un commentino, e quindi partiamo subito pronti, carichi con il video. Sto registrando col telefono nuovo e devo dire che in fatto di registrazione, in fatto sia di Nintendo che per questi, preferisco il telefono nuovo. Quello vecchio lo userò allora solo per i giochi. Prima di ciò partirei con la cosa piccola, la che avevo preso un po' di tempo fa, da Tiger. Sono queste praticamente le carte da gioco, ma più che altro per farci le magie. Perché vedendo i video di Jack Nobile, vi lascio il link del suo canale qua sotto in descrizione, mi piacciono molto le sue magie. Sto imparando varie magie sue di altri youtuber. Avevo un vecchio mazzo che era il Bicycle Blue, le Bicycle Blue, che me l'aveva regolato il mio amico, però adesso fanno praticamente schifo, perché si sono rovinate. Ho chiesto a mia mamma se me ne prendevo un altro, sono andato da Tiger con lei, ho preso appunto questo mazzetto, che è il mazzetto classico, il re di cuori davanti, dietro la tipologia che c'è sul dorso, e niente di che. Andando ad aprire è una scatolina come tutte le altre, contenente tre Joker, tre Joker ragazzi che sono carucci, niente di particolare, il dorso è questo, niente di eclatante, niente di che. Le carte tutto sommato sono ben fatte, le ho usate già un po' e sono ancora a posto, a posto in fatto di, sono ancora belle bianchine, sono fatte in tela, per fortuna, non so se si vede bene, sono fatte in tela, quindi, quando la vai a vedere, ci sono tipo quelle righette, vuol dire che sono carte buone per farci le magie, infatti, riesco a farne alcune, vediamo se mi riesce il ventaglio, mi viene poche volte, cioè mi è venuto, non mi viene poi così tanto bene, comunque, per il resto, se non vado a rato, le ho prese a un euro, quindi neanche poi così tanto, come prezzo ci sta, poi sono ben fatte, le ho usate già un paio di volte, e che non ci sono rovinate, quindi, le approvo, e poi mi serviva appunto, un nuovo mazzo, poi più avanti, ne prenderò un altro, e poi, yeah, il secondo, andrei a farvi vedere, il fumetto, per prendere i liquidi, sono andato a settimo, quindi, ok, sono riuscito ad andare a Mondadori, ho trovato purtroppo, pochi fumetti, c'erano un kakimanga, e solo fumetti, ma, Topolino, che a me, sì, però, sono più per questo tipo di fumetti, e ho trovato Batman, dell'universo DC, numero 65, Batman 178, e ragazzi, nel frattempo, ho il telefono, che sta caricando, Naruto, quindi questo video, arriverà dopo Naruto, e dopo Dokkan, yeah, comunque, Batman, eh, se il numero 65, Batman 178, molto bello, con flash, devo dire, che è molto carino, anche ovviamente, sempre i disegni, sono sempre, belli, e, e boh, bella anche dalla copertina, e ovviamente, farà parte, dei miei fumettozzi, simpatici, e carinozzi, mettono il titolo e tutto, e ci vediamo fra pochissimo, eccoci qua ragazzi, sta andando in carica, il video di Naruto, e volevo farvi vedere, il secondo, acquisto, che ho fatto, ma più che secondi, più che secondo, più di uno, ok ragazzi, allora, praticamente, sono andato, appunto, a settimo, a prenderli, ed ecco qua, cosa ho preso, due liquidi, uguali, però mi piacevano un sacco, questo qua, è l'ultra pop, eh, di, Vaporart, che, è il, secondo me, il maggiore esponente, di queste cose, in fatto, di liquidi svapo, ultra pop, Bebubble, che è veramente, è buonissimo, ovviamente, ha nicotina zero, ragazzi, dovete proprio fumarvele, le svapo, nicotina zero, la nicotina, fa schifo, comunque, ultra pop, Bebubble, che è praticamente, limone siciliano, pesca, e, tè fresco, che è qualcosa di buonissimo, ragazzi, eh, la, la svapo, porca vacchetta, la svapo, in questo momento, in generale, con, con la, con la Joyetech, Ego, IO, e, devo dire, che, la resistenza, con altri liquidi, non ha una buona, fatto di aroma, non ha un buon aroma, con questa resistenza, da 0,6 ohm, da 10 a 28 watt, con questo liquido, devo dire, che, la resa aromatica, è stra buona, l'ho provato, oggi, ci sono, o, la mattina, quando vado da scuola, eh, fumo, eh, devo dire, che la resa aromatica, è buonissima, e, mi sta, mi sta piacendo, un sacco, questo liquido, infatti, eh, dagli cml, sono pochi, ho detto, vabbè, le prendo due, a sto punto, questo qua, che puoi, questo qua, quello più intatto, questo qua, quello che sto usando, quindi, appena finisco, uso l'altro, eh, e, devo dire, che è buonissimo, ve lo consiglio, se, ragazzi, se trovo, questo, vi lascio il link, sotto in descrizione, ma non ne sono sicuro, di trovarlo, nel caso, non lo trovo, ragazzi, non lo trovate, link, e poi, nel negozio, dove sono andato, eh, con 10 euro, di, eh, spesa, mi davano, eh, insieme, anche un aroma, più la base, eh, da poterci fare, appunto, un liquido, da 20 ml, e, eh, l'ergia, eh, sì, l'ergia, la valchiria, precisamente, valchiria, l'ergia, valchiria, ovviamente, sempre il nicotina zero, che è, che ha, appunto, l'ergia, che è l'aroma, eh, con la base neutra, da 70-30, e, ragazzi, si presenta, così c'è, questa è la scatolina, ragazzi, è veramente bella, infatti, scatolina è veramente figa, aprendola, dentro, si trova, la bocciotta, con dentro l'aroma, che in questo momento, ho già, eh, fatto con la base neutra, ho già mescolato, con la base neutra, e viene appunto il bocciotto, qua hanno già riempito, una boccettina, ma, a parte, e devo dire che, in fatto di odore, ragazzi, è buonissimo, è un misto tra frutti rossi, eh, eh, non mi ricordo bene cos'è l'altro, dovrebbe, è un misto tra frutti rossi, eh, eh, porcaccio la miseriaccia, liquirizia forse, non mi ricordo bene, e comunque, dentro troviamo anche, la base sempre di Vaporart, eh, 70-30, sempre, nicotina zero, la base è praticamente, la base neutra, che appunto, è già finito, ovviamente, quindi dentro non c'è niente, ed eccola qua, la base neutra, che va messa insieme all'aroma, basta shakerarlo un po', e la boccetta per sicurezza la tengo, nel caso ci devo mettere dentro, magari altri liquidi o cosa, eh, va messa, l'aroma, che c'è già dentro questa boccetta, la base neutra va messa tutta, mescolate, agitate un po', lo lasciate riposare un giorno, e poi viene pronto, dentro sempre si trova anche, questa salviettina, per pulire, eh, il drip, e l'atom, che mi sa che, terrò quando ne avrò tante, magari inizierò ad usarle, perché, una sola non è che mi faccia impazzire, questa qua, avendola già provata, posso dirvi, questo B-Bubble, sì, vi posso dire che, è un, per i miei gusti, è un otto, per i miei gusti, vorrei andare a provare, insieme a voi, l'ergia, Valkyria, con la mia box, che è l'iStick Pico 25, e vi lascio il link, dove potete acquistarla, la Vaporart, in generale, non mi ha pagato, per dire queste cose, neanche, qualunque cosa non mi ha pagato, neanche il negozio, che vi linko, dove potete acquistare, la Joyetech, è questa, non mi ha pagato, quindi, e se lo trovo, anche il liquido, non mi ha pagato nessuno, quindi, ve lo dico, per mia esperienza, Poussunawe, e quindi ragazzi, adesso, andrò a metterci il liquido, e, a tra poco, ok ragazzi, nel frattempo, ho messo anche a caricare, il video di Dokkan, quindi, ho messo anche sia, il liquido dentro, la resistenza, a fianco alla resistenza, per pregnarla, di liquido, e anche dentro, il vetrino, aspetterò ancora, poco tempo, adesso, stoppo, poso, e poi, faccio subito, giusto, aspetto qui, 30 secondi in più, e quindi, andremo, a provarla, a provare il liquido, ok ragazzi, vado sempre, vado 80 watt, che è quella, che uso normalmente, la cosa che non uso normalmente, potevo riempiarla ancora un po', ho cambiato drip tip, avevo messo quello nero, ma mi dava fastidio, in generale, perché era un po' più lunghino, mi dava fastidio, in generale, questo qua lo preferisco, poi da guancia, quindi, ok, quindi, prendo uno, scusate il mio sfondo, ok ragazzi, non ho rimesso giusto un po', perché magari la resistenza, non si è ancora presa bene, forse dover restare ancora un po', mi sa, eh, ma, tutto sommato, non è male, un 6 e mezzo, se lo prende, non è, perché non è male, tutto sommato, non fa schifo, cioè, è buono, no, tutto sommato, non è male, no, no ragazzi, non è male, no ragazzi, non è affatto male, no, da adesso che sta prendendo un po' più di gusto, non è male, quindi ragazzi, vi direi che, eh, per questo video è tutto, mi raccomando, lasciate un bel polizio in su, commentate, condividete, iscrivetevi, se non avete ancora fatto, noi ci vediamo in un prossimo video, e quindi, pica pica a tutti, e vi do con l'ultima mezza parte, un bel salutino simpatico, quindi, ciao ciao!